Allora, prego, grazie a tutti i giorni, io fui mortale, 2005-2007, scriverò di te inocente, giovane a basso, della lunga viola di Crapoli, di Crapoli, pova rossigna, tra le fiamme dei cronchi, dei grossi ardenti staviglanti, una notte di cielo deserto, deserto del cuore del deserto, penserò in una nefronia, giovane a basso, da tese di passioni con occhi e memorie, memorie castellate, sorrefumi dei tronchi, di tronchi assuriti, le notte di cielo deserto, deserto del cuore del deserto, amerai i sguardi esplicanti, giovane a basso, per la felice memoria di silenziosi sorrisi, lo sorrisi a ricostra dei dati di me, dentro ai frutumi dei tronchi, dei tronchi spetti dalla mia ombra, ogni notte di cielo deserto, deserto più del cuore del deserto. Perché ho scelto questa posizione a nasce? Perché non dimentichiamo il genoscidio che c'è stato nell'Ottocento, negli sghiari, non dimentichiamo qualche storia dei genoscidi, purtroppo si continua. Quindi noi scrittori mettiamo in evidenza questo atto perché non ci vogliamo sporcare le mani dei rispetti. Grazie.